Musica Vita in provincia, ingenti, danni e disagi per la tromba d'aria nella Cese. Il sindaco Barbagallo ha chiesto al presidente Crocetta lo stato di calamità naturale. A Cireale è in ginocchio, flagellata dal maltempo che si è abbattuto sulla riviera Ionica. La conta dei danni è pesantissima e sembra che ci siano anche alcuni sfollati perché sarebbero diverse le case divenute inagibili. Il comune sta allestendo la palestra del liceo scientifico Archimede e il convento dei padri camigliani ha messo a disposizione alcune stanze per accogliere chi non può fare rientro nella propria casa resa inagibile dalle infiltrazioni dovute alle piogge. In Sicilia infatti è codice rosso, nella provincia Ettennea, scuole chiusa da Cireale, Cicastello, Cicatena, Belpasso, Camporotondo e Ettenneo, Mascaluccia, Paternò, Trammestiere e Ettenneo, Riposto, Sant'Agata, Libattiati, San Gregorio, San Giovanni, La Punta, Mister Bianco, Zafferana e Ettennea. Il rettore dell'Università di Catania, Giacomo Pignataro, ha disposto a scopo precauzionale la sospensione di tutte le attività didattiche, lezioni, esercitazioni e esami nelle strutture dell'Università di Catania nei giorni 6 e 7 novembre. Ulteriori notizie sui danni nella costa ionica seguono nella rubrica di approfondimento dopo questa edizione di Notizie Flash. Bilancio dei vigili del fuoco, centinaia le richieste di intervento, sono ancora in corso i sopralluoghi su tutto il territorio colpito dal maltempo. Davanti agli occhi delle squadre di soccorso diverse sono state le scene di devastazione, coperture danneggiate, tetti scoperchiati, verande e strutture parzialmente o completamente divelte, rami pericolanti, interi alberi sradicati e adagiati sulla sede stradale con conseguenti difficoltà per il transito delle auto e dei pedoni. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni per il crollo delle scale di accesso. Per alcune ore l'autostrada A18 su entrambe le careggiate, tra gli svincoli di Acireale e Giarra, è rimasta chiusa al traffico per allagamenti e piccoli smottamenti. Sulla Acireale questa mattina sono state registrate circa 180 richieste per la verifica dello stato dei luoghi, per rimozioni di parti pericolanti e sgomberi. La situazione ancora nella mattinata di oggi è ferma a quello che è successo ieri. Alle 17 di ieri pomeriggio, 50 erano ancora gli interventi effettuati e ne rimanevano 180. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte. Stamattina si parlava di un totale di 250 interventi richiesti per far fronte all'emergenza. Sono state utilizzate nella Cese 6 squadre di pompieri più una di rinforzo da Siracusa. Sono stati necessari anche mezzi di movimento terra da Enna che stamattina stanno collaborando alla rimozione di detriti e per il ripristino dell'agibilità dei luoghi pubblici e il transito in diverse sedi stradali danneggiate. Per scongiurare la presenza di persone rimaste incastrate sotto i cumuli di detriti sono state utilizzate inoltre le squadre dei Vigili del Fuoco del Nucleo Sommozzatore e dei Cinofili. Ai cittadini si raccomanda di evitare di passare sotto cornicioni e ballatoi perché ci possono essere parti pericolanti non visibili. Le abitazioni con utenze di gas e luce malfunzionanti devono procedere alla verifica delle condizioni degli impianti con le anziende fornitrici. I carabinieri del NAS di Catania e della locale stazione nell'ambito di mirate e servizio a salvaguardia delle leggi in materia di igiene e sanità con particolare attenzione alle strutture ricettive per anziani hanno ispezionato uno di questi convitti scoprendo che un'attività era stata avviata senza la preventiva autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e conseguente omissione dell'invio della prescritta scheda degli ospiti alloggiati. Per tale situazione è prevista una sanzione amministrativa di 1.032 euro. Nella circostanza la legale rappresentante, una 48enne, è stata denunciata all'autorità giudiziaria. A Castiglione di Sicilia è seguito ordine di carcerazione. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato il 33enne del posto, Maurizio Ponticello, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pesaro. L'uomo condannato a 4 anni e 15 giorni di reclusione sconterà la pena nel carcere di Catania a Piazza Lanza. Nuovamente agibile il piccolo teatro di Paternò, dopo i lavori di messa in sicurezza che si sono svolti nelle ultime settimane a seguito del cedimento di parte del controsoffitto avvenuto quest'estate a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto, riapre nel prossimo fine settimana il teatro cittadino che nella scorsa stagione ha visto l'inaugurazione della mostra permanente dedicata al mondo dei cantastori e nonché diversi eventi culturali di rilievo come l'esibizione di artisti di fama nazionale come Giovanna Calcagno, Luigi Locascio, Vincenzo Pirotta e Stefano Bollani. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Mangano, felice di riaprire la struttura in tempo per la nuova stagione teatrale, assicurando, grazie anche alla collaborazione degli artisti locali, una serie di eventi per dare risalto al teatro paternese. A segnare in grande stile la riapertura del palcoscenico cittadino e l'inizio della nuova stagione teatrale sarà questo weekend la commedia brillante Pazzi, scritta e diretta da Pippo Barone, che verrà messa in scena dal gruppo teatrale Torinati. Lo spettacolo patrocinato dal comune di Paternò, assessorato alla cultura, avrà luogo sabato alle ore 21 e domenica. Grazie per la visione!